Ho fatto una cosa sbagliatissima, ho occupato questa casa, però questa qua è una casa non abitabile, secondo me oltre, eravamo da decine d'anni abitabili, se potete salire, se potete vedere, abbiamo fatto un video e l'abbiamo messo, quindi la gente lo sa, ma io non lo so, qualcosa devono fare, qualcosa mi devono aiutare, perché siamo una famiglia di quattro persone, due in pali di civile, c'ho mia moglie malata e tumorata. Non possiamo combattere, sono disperato, questo gesto qua me l'ha fatto fare la disperazione, non so cosa devo dire più, cerco un aiuto, non sto cercando niente, un tetto per riparare. Piero Cervasio è disperato e quasi chiede scusa per il gesto che ha compiuto, quello di aver occupato, assieme alla moglie, alla figlia e al genero, un appartamento all'interno delle palazzine ACP di Perrone. Popoloso e popolare quartiere di Casamiccio Laterni, trovatisi senza casa a seguito di uno sfratto e rimaste in evase le invocazioni di aiuto fatte ufficialmente ad associazioni ed istituzioni dello Stato, i Cervasio hanno occupato un appartamento a loro dire disabitato da anni, l'alternativa sarebbe stata quella di andare a vivere in auto per strada, impossibile farlo, visto le precarie condizioni di salute di ben tre componenti della famiglia, come ci spiega Teresa, la figlia di Piero. Mio padre di 67 anni, 10 anni fa ha avuto un'emoraggia cerebrale in base al 100%, mio padre dopo questa emoraggia cerebrale ha un problema all'udito, non sente proprio, tutto il lato destro è morto, sinistro, scusatemi. Mio marito tre anni fa è iniziato con dei dolori alla schiena, ha avuto già un intervento al canale del midollo osseo, un primo intervento di sette ore, ne ha avuto un altro a luglio perché gli hanno diagnosticato una malattia alle ossa, praticamente l'invecciamento delle ossa e ha avuto tutta la ricostruzione di questo lato destro della gava, un altro intervento di otto ore mio marito, un ragazzo di 38 anni e a seguito a questo, cortisone, tutte le cure, gli hanno portato altri tipi di problemi, mio marito è un diabeta di tipo 2, di peso dai medicinali. E poi ho mia madre già malata oncologica da oltre 15 anni, però erano 5-6 anni che ringraziando a Dio stava bene, adesso sono giusto un mese e mezzo, mia mamma non stava bene più, non ha potuto lavorare, mia madre gli hanno diagnosticato di nuovo la neoplasia alla gola, alla gamba destra, alla gamba destra e allo sterno. E pensare che sono anni che i Cervasio chiedono aiuto alle istituzioni, ma inutilmente purtroppo. Io non so più che dirvi, però non mi fermo qui, a me una sistemazione, il comune, il sindaco, un'istituzione, ci vogliono loro, una casa mi devono, un tetto me lo devono dare, mi devono dare un tetto perché non posso andare con tre persone dentro una macchina, basta, basta. Io prima di fare questo gesto, se volete, io ti faccio vedere tutti i documenti, io sono anni che ho fatto le passeggiate scalde, assistenti sociali, comune, ho protocollato documenti, ho protocollato domande, ho protocollato di tutto, tengo, cose che hanno anche i carabinieri, eh? Prima di fare questo. Nessuno mi ha ascoltato per anni, per anni nessuno mi ha ascoltato. Mi è stato sempre detto, e noi che possiamo fare? La situazione disperata dei Cervasio è degna ed emblematica del paese di Pulcinella, e cioè dell'Italia, dove il diritto alla prima casa non viene garantito, dove tante case popolari da anni risultano disabitate e dove coloro che sono stati costretti dalle istituzioni da depienti a realizzarsi abusivamente la propria casetta di necessità, se la vedono pure abbattere dallo stesso Stato che dovrebbe garantire loro un tetto. Assurdo. E così, dopo il caso della signora Pasqualina, che qualche anno fa, sempre qui a Perrone, fu costretta ad occupare un appartamento per non vivere sotto i ponti, sull'isola Dischia c'è chi ancora aspetta di vedersi garantito il diritto alla casa. E nonostante questo, i sindaci e le amministrazioni comunali isolane e l'Istituto Case Autonome Popolari continuano a non indagare per capire se e quante abitazioni delle case popolari nel territorio regionale sono eventualmente libere per poter essere assegnate a chi ne ha effettivo bisogno.